al clavinet il reverendo Alen Trebo allo scegliere Fabrizio Fela Cutela io sono Guglielmo Pagnonzi questo è il Voodoo Sound Club musica funk musica afrobeat e un po' di jazz e un po' di musica romagnola perché no questa sera con noi Roi Paci e un po' di musica vi piace il funk? bravi 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 ballate ballate ragazzi che stasera ci divertiamo stanotte ci divertiamo adesso passiamo un brano afrobeat